La nuova MB Auto, unico punto vendita in via Boriposo 85B, traversa di via Reto Nuova. Anno nuovo e prezzi davvero stracciati. Qui alla nuova MB Auto vogliamo riuscire a farvi realizzare il vostro più bel sogno, quello di cambiare auto. Dovrete davvero correre questa volta perché la nuova MB Auto è impazzita. Saldi, saldi, saldi. Vi preoccupano le spese inerenti l'auto, quindi l'assicurazione, il passaggio di proprietà? Nessun problema, venite qua, penseremo a tutto noi. Nuova MB Auto è nuovo in tutto, nelle offerte, nei prezzi e nelle vetture. Quindi che dirvi, affrettatevi!